Michela Murgia La letteratura è un'ottima fuga alla noia e il libro di oggi lo fa in maniera del tutto atipica anche nella tipicità dell'argomento che tratta è una voce letteraria ma anche una voce radiofonica quella dell'autrice che per 22 anni ha tenuto uno storico programma su Radio 2 si chiama Fiamma Satta, ricorderete il programma Fabio e Fiamma tenuto insieme a Fabio Visca e Fiamma Satta nel 1993 riceve una diagnosi precoce di sclerosi multipla e adesso a distanza di tanti anni di convivenza con la malattia e anche di intelligente elaborazione di tutto quello che ha comportato per lei in questi anni scrive questo romanzo, lo scrive molto bene con una qualità letteraria anche se vogliamo imprevista per un'autrice che siamo abituati a non collocare in questo scenario ma in altri il libro fa il verso a Io e lui di Moravia si chiama Io e lei, confessioni della sclerosi multipla e qui c'è il primo intervento di rottura della retorica dei racconti sulla malattia per un sacco di tempo l'editoria non ha parlato di malattia perché si dava per scontato che le persone quando prendevano un libro in mano volessero leggere qualcosa che le sollevava non qualcosa che le opprimeva e poi ci sono stati firme importanti che hanno raccontato la malattia in maniera anche atipica penso a Chiedo scusa di Francesco Abate o Paola Natalicchio che scrive nel Regno di Oppi per raccontare addirittura la malattia dei bambini in questa stagione abbiamo raccontato di Alessandra Sarchi e del suo bellissimo romanzo appena uscito invece questo libro qui fa una cosa ancora ulteriore non è la persona che ha la malattia a raccontare non è il personaggio del romanzo la persona malata ma è la malattia che ha una voce, che ha un carattere che ha una volontà propria quasi terrificante, è un demone questa sclerosi multipla è un volgare, sboccata direi coprolalica a tratti molto violenta, carica di odio desidera essere la Marchesa de Merteuil delle relazioni pericolose dentro il sangue della donna che la ospite che lei chiama la mia gentile ospite attraverso questa voce violenta Fiamma Sata racconta tutta la sua vita e che cosa ha voluto dire convivere con una consapevolezza così forte del proprio limite devo dire che di solito si cerca di consigliare alle persone che hanno una malattia di non personalizzare la malattia ma anzi di rendersi conto che si tratta di una parte di se stessi che non va né odiata né combattuta ma banalmente curata Fiamma Sata però riesce a personalizzarla in una maniera tale che alla fine neanche il lettore ne esce curato citando Patrizia Cavalli che lei cita nel libro direi che questi versi restituiscono ma per favore con leggerezza raccontami ogni cosa anche la tua tristezza